buonasera cari spettatori bentrovati a questa puntata del tg question time siamo con il sindaco alessandro canelli che vado a salutare buonasera buonasera a lei parliamo di un po di argomenti che riguardano la nostra città torniamo a parlare però subito all'inizio dei lavori ci sono i lavori ad esempio al castello che stanno progredendo celermente e c'è anche l'attesa per il famoso ponte del terdoppio c'è un ritardo nella consegna proprio del manufatto che dovrà essere posizionato ci sono alcune accuse che chiedono come mai ci siamo andati a rifornire di questo ponte addirittura in america con probabilmente anche conseguenti costi maggiori ma assolutamente no punto primo il comune di lovara non è che compra un ponte in america il comune di lovara fa un bando per progettare e realizzare i lavori di rifacimento di realizzazione di un nuovo ponte sul terdoppio per fare questo fa un bando pubblico si presentano delle aziende l'azienda è italiana di trento poi l'azienda si rifornisce dove meglio crede questa è una delle primarie primarie aziende italiane per quella tipologia di ponti che si chiamano ponti bailey ha il proprio fornitore nel new jersey negli stati uniti ha comprato il ponte l'amano l'azienda che ha vinto un bando pubblico non è come andare a comprare un chilo di frutto di verdura dal verduriere fare un bando un bando pubblico ci sono tutte delle procedure questa azienda che ripeto fortunatamente un'azienda molto qualificata che fa ponti in tutta l'italia e non solo al suo fornitore negli stati uniti quando dicono che il ponte è in ritardo ma comunque sia ritardi non ce ne saranno molti perché prima di mettere un ponte ci sono tutta una serie di lavori da fare bisogna fare le palificazioni e ci mette un mesetto bisogna riempire di cemento armato e poi questo cemento deve maturare ci vogliono 28 giorni bisogna spostare i sottoservizi perché lì passano i tubi dell'italgas dell'enel della team dell'acquedotto e quindi tutte queste aziende devono spostare tutti questi tubi per far sì che si possano fare i lavori quindi nel frattempo che arriva il ponte stanno andando avanti a fare questi lavori quindi lei dice non è comunque tempo perso ma stiamo lavorando diciamo che il ponte era stato programmato la sua partenza il 4 di febbraio è stata rimandata di un paio di settimane per il semplice fatto che siccome c'è un blocco commerciale sul Mar Rosso a causa delle note vicende che stanno interessando ovviamente anche il nostro paese a cascata tutti i commerci internazionali mercantili hanno subito dei ritardi quindi invece che partire da New York il 4 di febbraio è partito l'altro giorno questo cosa significa? significa che entro la metà di marzo sarà qui ma nel frattempo stanno facendo i lavori per consentire ovviamente al manufatto di essere posizionato quando quando arriverà sono polemiche veramente che sottintendono che tantissime persone come è normale che sia non conoscono come stanno veramente le cose diciamo che il comune cittadino effettivamente non può sapere tutti questi argomenti diciamo che altri esponenti dovrebbero in realtà conoscerle per quanto riguarda invece i lavori al castello ci si chiede come mai verrà rimossa la passerella che attualmente è stata è in legno e verrà sostituita con un'altra passerella in acciaio non si poteva lasciare comunque questa attuale? si la lasciavamo poi cadeva sulla gente che camminava cioè ogni tanto ogni tanto ogni tanto bisogna fare dei lavori di manutenzione allora se non fai lavori di manutenzione e succede poi qualcosa ovviamente è anche diciamo così una responsabilità grave quindi noi stiamo facendo dei lavori di manutenzione perché non è che uno si alza la mattina e dico ciao cosa faccio stamattina cambio la passerella del castello perché non ho niente a che fare da fare no non è così quindi era ammalorata comunque con il legno ci sono dei controlli da parte degli uffici tecnici del comune tra l'altro che avevo sollecitato io stesso per dire andate a verificare se questa passerella è tutta a posto e ci hanno detto forse è meglio che adesso cominciamo a presentare un progetto per il rifacimento di questa passerella la faremo in modo tale da aver bisogno anche di meno manutenzione nei prossimi anni come il ponte del terdoppio che arriva da new york è un ponte che è in ferro e che non ha bisogno di manutenzione per i prossimi 75 anni questo vuol dire risparmiare soldi da qui ai prossimi 75 anni così pure faremo anche con questa passerella perché comunque il castello è interessato ancora da lavori di migliorie di rifacimento sia del cartile che adesso partirà dopo che avremo finalmente nulla osta da parte della sovrintendenza della sovrintendenza stanno rifacendo tutte le mura in modo tale da poter poi utilizzare anche il fossato che in questo momento è inutilizzabile proprio a causa della pericolosità delle mura che devono essere costante rifatte e poi già che ci siamo facciamo anche il ponte diciamo così pedonale di collegamento tra l'allea e il polo culturale del castello ma sono cose che normalmente si dovrebbero fare che tutte le amministrazioni dovrebbero fare nell'ambito delle loro progettazioni e programmazioni di manutenzione hanno preso il via anche i lavori all'ex macello e purtroppo ogni ogni volta che parte qualcosa qualche lavoro c'è anche la solito strascico di polemiche questa volta perché ci saranno nuovi insediamenti per quanto riguarda attività commerciali la paura che possano andare a danneggiare il mercato che si trova in piazza pasteur e le attività circostanti oltre all'apertura di un nuovo supermercato. Allora punto primo mettere d'accordo tutte le teste che ci sono in giro è impossibile quindi ci sarà sempre qualcuno che è contrario a qualche cosa però faccio sommessamente notare che l'ex macello è conciato in quel modo lì cioè abbandonato da decine di anni ok è un posto all'interno del quale si andavano ovviamente trovavano rifugio tante persone senza fissa dimora nonché tanti anche tossicodipendenti l'abbiamo pulito da questo abbiamo fatto un progetto per la sua riqualificazione prima di fare questo abbiamo tirato via l'amianto adesso finalmente lo rifacciamo lì si riempirà di gente perché ci saranno diverse attività commerciali compreso un parcheggio sotterraneo da oltre 500 posti che per la zona è una grande riqualificazione cioè la differenza sarà avere un luogo completamente abbandonato e mal frequentato con un luogo completamente riqualificato pieno di attività commerciali ristoranti bar centro commerciale in modo tale che possa essere vivibile quindi dalle persone completamente riqualificato che porterà tanta gente lì se tu porti tanta gente lì indirettamente o direttamente fai un piacere anche a coloro i quali hanno il mercatino lì perché adesso il mercatino devi andarci per forza non c'è altra ragione per andare in quel luogo è più rionale con una riqualificazione di quel posto lì ci sarà tanta gente che magari passando di lì gli verrà voglia anche di andare al mercatino a comprare io fossi un mercatale sarei contento che ci che c'è questa riqualificazione perché mi porterà più gente lì che potrà venire anche a comprare da me è il principio base di ogni attività commerciale più flusso di gente c'è in un posto meglio è per chi deve vendere qualcosa anche perché ci sarà tutta un'area verde un parco quindi comunque ci sarà la possibilità di rimanere presso il tuo luogo per l'amor di dio poi se qualcuno vuole vuole polemizzare non è d'accordo è ovviamente libero di farlo perché siamo in un paese libero però secondo me qui sbaglia sono finite le polemiche passiamo ad un altro argomento allora il lavoro parliamo di cantieristi e puc spieghiamo che cosa sono queste due iniziative del comune di novara che stanno tenendo comunque molto riscontro puc è un diminutivo un acronimo per dire progetti di utilità per la collettività sono quei progetti che possono essere attivati dai comuni e che sono rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza ora come sappiamo il reddito di cittadinanza è stato a mio modo di vedere molto diciamo opportunamente riformato perché il reddito di cittadinanza era basato sul concetto che bisognava dare un reddito a chiunque a prescindere dal fatto se potesse lavorare oppure non adesso con l'assegno di inclusione si va nella direzione di dare un assegno quindi un sostegno economico solo a coloro i quali non hanno la possibilità che non vogliono non hanno la possibilità di lavorare per n motivi perché hanno magari delle diciamo così invalidità perché hanno delle impossibilità legate all'età coloro i quali possono lavorare invece hanno diciamo così l'opportunità di poterlo fare e sia attraverso ovviamente un percorso che inizia con questi progetti di utilità per la collettività quindi io percepivo il reddito di cittadinanza percepisco il reddito di cittadinanza comincio a darmi da fare per la collettività prendo dei soldi pubblici restituisco al pubblico e quindi questi progetti sono gestiti direttamente ovviamente dai servizi sociali e danno la possibilità a queste persone di mettersi a disposizione per tot ore alla settimana della collettività sono ne sono partiti mi sembra una trentina in questo momento sono progettati circa una trentina di questi progetti su circa 370 400 percettori del reddito di cittadinanza facciamo conto che non tutti possono lavorare certo di questo non proprio non lo possono non lo possono fare il numero dei percettori del reddito di cittadinanza novara si è abbassato notevolmente anche perché è aumentato il tasso di occupazione ed è diminuito il tasso di disoccupazione cioè ora novara ci sono tante possibilità occupazionali poi lascia stare che magari qualcuno non riesce a trovare lavoro ma io sto facendo un discorso generale a livello generale il tasso di disoccupazione i dati non mi possono smentire perché sono così dice che il tasso di disoccupazione è diminuito fortissimamente quindi c'è più gente che lavora e quindi c'è meno gente che ha bisogno di assistenza oltre ai progetti di utilità per la collettività che sono legati alla percezione del reddito di cittadinanza ci sono anche dei progetti di utilità sociale ulteriori che noi mettiamo in campo a favore soprattutto di persone che hanno una certa età quindi avendo perso il lavoro non avendo un lavoro magari hanno bisogno di finire per poter ottenere la pensione noi abbiamo circa 10 persone c'è un bando aperto fino al 15 di marzo che potranno essere impiegati i lavori di manutenzione di pulizia per circa un anno dovranno lavorare 25 ore alla settimana quindi non è che si dovranno spaccare la schiena comunque prenderanno comunque prenderanno un un reddito che è meglio che stare a casa senza prendere niente e quindi questo dà la possibilità a loro di poter fare da una parte un lavoro utile ai cittadini e dall'altra comunque sia sostenersi però lavorando non stando sul divano tutto il giorno quindi questo è sono i due progetti che stiamo seguendo in questo momento cambiando argomento e abbiamo pochissimo tempo ma è importante sono arrivati nuovi mezzi alla sun ovviamente la parola d'ordine sostenibilità ambientale si ormai il ricambio dei mezzi è molto diciamo così avanti questi sono mezzi elettrici prodotti da un'azienda italiana con anche motore tedesco quindi non sono i pullman elettrici cinesi per dirla tutta hanno portato il numero di mezzi elettrici a un numero elevato se non ricordo il numero preciso comunque sia ormai siamo a un buon numero di mezzi elettrici e tra mezzi elettrici e mezzi a metano che quindi sono mezzi diciamo così ambientalmente sostenibili ormai il nostro parco mezzi della sun è veramente ha veramente un numero importante ci è rimasto solo un piccolo numero di mezzi a gasolio che peraltro vengono utilizzati poco solo in alcuni orari ristretti della giornata quindi il loro impatto dal punto di vista ambientale veramente è veramente minimo quindi la sun si sta sempre più evolvendo in una azienda cosiddetta green sostenibile dal punto di vista ambientale questo è un investimento molto importante che siamo riusciti a ottenere grazie al management di sun su fondi europei nazionali e regionali riusciamo anche ad accennare ad un altro argomento legato a questo tema sull'ambiente vi do appuntamento poi a domenica ore 20 con l'intervista all'assessore regionale matteo marnati che ci spiegherà anche qual è lo stato della qualità dell'aria qui a novara e sul nostro territorio possiamo accennare però adesso ad un altro argomento cioè le salite alla cupola che finalmente ritornano dal 2 marzo si ricomincia la possibilità con prenotazione ovviamente perché è meglio prenotarsi perché sono veramente tante le richieste di poter vivere questa esperienza di salita alla cupola che è veramente molto apprezzata e i numeri ci stanno dicendo che oltre agli ingressi alla mostra d'arte che c'è d'arte dell'ottocento al castello siamo già arrivati a 38 mila visitatori quindi sfonderemo ovviamente 40 mila ci avvicineremo se non supereremo i 50 mila visitatori che è il record assoluto per la città di novara da questo punto di vista quindi vuol dire che la mostra è veramente bella e apprezzata arrivano da ogni parte a visitarla vuol dire anche che novara ha sempre maggiore considerazione anche proprio nel panorama culturale sì questo ci fa molto piacere ovviamente c'è anche questa esperienza di visita alla cupola di San Gaudenzio la cupola antonegliana di San Gaudenzio che ha portato il numero di visitatori della nostra città a quadruplicare nell'ultimo anno e mezzo e questo è veramente un altro risultato importante perché la città diventa anche sempre più appetibile da un punto di vista turistico cosa che non era mai stata quindi un altro volto proprio per la nostra città continueremo a parlarne la settimana prossima con lei sempre venerdì grazie grazie a voi buona serata e a tutti voi appunto appuntamento a domenica arrivederci grazie a tutti